A nulla sono valsi gli abboccamenti e i sopralluoghi di tanto in tanto. I commercianti si costituiscono in comitato contro i tempi lunghi per la costruzione della rotatoria. Bersaglio delle contestazioni degli esercenti del quartiere Trodio di Palme rimangono i tecnici dell'ANAS e per questo è stato chiesto al sindaco Giuseppe Ranuccio di convocare un incontro tra le parti. Il cantiene per la nuova struttura che si trova all'ingresso della città e la cui costruzione è iniziata a novembre e durerà altri 12 mesi, sta creando disagi intanto per gli automobilisti che vengono instradati su percorsi alternativi non sempre segnalati. Ma i commercianti lamentano il fatto che i lavori nel quadro di un progetto che vale 800.000 euro vengono condotti troppo a rilento e potevano essere meno invasivi se si fosse lasciata una corsia aperta. L'incontro spiega nella missiva il comitato deve avvenire con estrema urgenza e vuole avere un carattere di collaborazione. Il sindaco viene sollecitato sull'esigenza che il traffico veicolare torni normale il prima possibile, ma i commercianti gli fanno sapere che per loro è indispensabile, si legge nella lettera, trovare un sistema alternativo di viabilità momentanea. Infine una richiesta, il comitato vuole conoscere per filo e per segno come sarà la rotatoria una volta ultimata, per formalizzare eventuali proposte migliorative del progetto e per dimostrare che anche questa è partecipazione dal basso all'urbanistica cittadina. Agostino Pantano per la CNews24